La qualità delle acque dei laghi e torrenti piemontesi è complessivamente buona, lo dicono i risultati della classificazione 2014 delle acque barneabili presentati da Arpa Piemonte a Palazzo Lascaris. Le analisi rilevano che su 93 zone controllate, 77 sono dichiarate eccellenti, 10 buone, 6 sufficienti e nessuna scarsa. A essere presi in considerazione sono stati i laghi Maggiore, Orta, Mergozzo, Viverone, Avigliana, Sirio e Candia, oltre ai torrenti Cannobino e San Bernardino, monitorati dall'Arpa con oltre 900 controlli stagionali. Ingegner Robotto, qual è lo stato di salute dei laghi piemontesi? Lo stato di salute è buono nel complesso, soprattutto per quanto attiene ai parametri che consentono la balneazione dei laghi e questo però non deve far dimenticare il fatto che è buono perché c'è un motivo, c'è un ente di controllo che effettua i controlli, c'è una regione che è attenta e si effettuano tutte le valutazioni di stato dei corpi idrici e anche tutte le valutazioni di tutela dell'attività, delle industrie, degli eventi antropici che possono o potrebbero recare documento alla buona salute che fortunatamente stiamo riscontrando nei nostri corpi idrici piemontesi.